Musica Sono passati pochissimi giorni dalle elezioni europee, dai risultati delle elezioni europee e abbiamo una certezza, una donna comunista sarà al Parlamento europeo. I patti e gli annunci di coalizione prevedevano dei passaggi di consegna all'interno della lista e l'onora Florenza è arrivata seconda nella lista del Sud e sarà a rappresentare l'Italia e la lista Tsipras al Parlamento europeo. Io con l'onora però partirei dall'esperienza della campagna elettorale che a volte non si racconta, facciamo un primo bilancio di questo attraversare il Sud come hai scritto sul tuo profilo Facebook, mai in un albergo, sempre a casa dei compagni, questa esperienza anche di comunità intorno a una candidatura, quindi una diversa politica rispetto a quella che viene rappresentata anche sui media. Sì, è stata un'esperienza umanamente e politicamente straordinaria, quella della campagna elettorale, fatta grazie a una comunità politica generosissima. È stato per me veramente un viaggio, un viaggio in cui ho potuto conoscere lotte, vertenze, incontrare compagni e compagne, soprattutto incrociare tantissime vertenze sulle questioni del lavoro, sulle questioni ambientali, intrecciare questioni sociali e questioni ambientali, che al Sud ormai sono davvero indisgiungibili, ma soprattutto conoscere una comunità generosissima, militante, davvero un paese nel paese, verrebbe da dire, davvero un'esperienza straordinaria. Questi compagni e compagni che si sono mobilitati anche intorno alla tua candidatura hanno consentito l'elezione di una comunista, dopo parecchio tempo, al Parlamento europeo. Tu hai fatto in questi anni anche dei percorsi, diciamo, dentro il partito della rifondazione comunista, ma anche dei percorsi con NoDebito, con Ross, con altre esperienze a sinistra. Come potrai, insomma, come ti senti di poter portare queste esperienze, queste posizioni politiche dentro un Parlamento europeo, che vede un'avanzata anche delle forze di sinistra, ma che è segnato ancora da un'egemonia di destra e di un potere forte dell'asse PSE? Io penso che il fatto di aver superato lo sbarramento dia un elemento di entusiasmo in più che serve, serve moltissimo dopo anni di sconfitte, per continuare in un percorso unitario, un percorso alternativo al Partito Democratico, un percorso in relazione alla sinistra europea. Sono anche molto contenta del fatto che la comunità politica di rifondazione comunista abbia potuto costruire un lavoro insieme a me, insieme a tanti altri, un lavoro unitario, perché si è spesa moltissimo anche dentro la costruzione del lavoro unitario. Adesso, secondo me, c'è un passo ulteriore da fare, e questo lo dico anche in relazione a quei percorsi appunto come ROS o come non debito. Io penso che il passo in più da fare sia radicare ulteriormente questa lista dentro le esperienze di conflitto sociale. Alexis Tsipras ha detto una cosa molto importante che ho ripetuto più volte durante la campagna elettorale. Bisogna unire ciò che il neoliberismo ha diviso, le forme frammentate del lavoro, il lavoro precario con il lavoro subordinato classico, i disoccupati, con gli esodati. Io penso che noi dobbiamo fare un lavoro di ricomposizione del blocco sociale. E per me questa è la vera unità della sinistra, prima dell'unità tra le sigle. Da questo punto di vista io mi auguro che si possa stabilire quanto prima una relazione, una connessione con il movimento per la casa, che oggi subisce i contraccolpi del maledetto piano casa di Renzi, noi tutti, la mia generazione precaria che subisce i contraccolpi del Jobs Act. Insomma, il lavoro da fare è questo. E io mi auguro che dentro questo tipo di percorso si possano sentire coinvolti tutti. Queste elezioni hanno visto anche la sconfitta dell'ambizione di Grillo di diventare maggioranza in questo paese. E nel momento in cui una sinistra, plurale, supera lo sbaramento e va al risultato anche sul piano elettorale, forse è il caso di aprire un dialogo, un confronto con milioni e milioni di italiani che comunque non hanno più scelto la sinistra e magari si affidano ad altre ipotesi. Sì, secondo me il risultato di Grillo, il calo di Grillo sostanzialmente o quantomeno l'essere andato molto al di sotto delle aspettative da un lato e dall'altro il superamento e lo sbaramento consentono una cosa. Consentono di far sì che l'opposizione non sia l'opposizione populista, l'opposizione anticassa di Grillo, ma un'opposizione di sinistra, ovvero un'opposizione che mette al primo punto le contraddizioni sociali, mette al primo punto la necessità di superare lo strapotere delle multinazionali, mette al primo punto il fatto che in questa Europa vadano cambiati i trattati, vada cambiato il ruolo della banca centrale, vada fatta una conferenza sul debito. Insomma, non gli scontrini dei deputati, ma la vita delle persone, la condizione sociale delle persone. Questa è l'opposizione che può crescere dopo questa campagna elettorale. Infine l'Europa, tu andrai al Parlamento europeo, si incontreranno altre sinistre, c'è un progetto che voi sostenete come rifondazione comunista, che è quello del partito della sinistra europea, ma gli altri due eletti per esempio della lista Tsipras non vi aderiranno. Quale rapporto, la relazione tra le sinistre in Europa è l'ipotesi italiana, cioè si riproporrà lo schema Tsipras anche in futuro? Come evolverà questa esperienza che comunque è andata a risultato, se non ha mancato il proprio obiettivo? Allora, io penso che il progetto della sinistra europea possa essere ancora, dopo la campagna elettorale come lo è stata durante la campagna elettorale, un punto di riferimento per questo progetto. La domanda di unità è fortissima, io l'ho incontrata moltissimo in campagna elettorale, ma allo stesso tempo netta la domanda di radicalità e di alternatività. Alexis Tsipras, il partito di Tsipras-Siriza, non ha mai fatto accordi col PASOC. Credo che questo sia un punto. Quindi nessun accordo col PD? Assolutamente nessun accordo col PD. Ma alcune forze che stavano nella lista Tsipras, come SEL, che pure elegge un suo deputato, questo accordo lo cercano? E penso che loro dovranno risolvere questa contraddizione interna, io mi auguro che sciolgano questa contraddizione nel migliore dei modi. Insomma, Matteo Renzi va in Europa e dice che bisogna cambiare, ma in Italia ha fatto due cose, ha fatto il Jobs Act e ha fatto il Piano Casa, che parlano di una linea di pensiero che sta tutta dentro le politiche di austerità, tutta dentro il fatto che questa crisi la continuino a pagare i soliti. Allora, io penso che noi dobbiamo costruire una sinistra unita, una sinistra alternativa alle forze del socialismo europeo, una sinistra quindi nettamente alternativa in Italia al Partito Democratico, capace di ricomporre il blocco sociale. Questo è il compito che noi abbiamo davanti. Ringraziamo Eleonora e le auguriamo una straordinaria esperienza. Non potrà fare tutto da sola, dovremo aiutarla e credo che in Italia ci saranno molti che cercheranno aiuto da lei. Grazie Eleonora e ti seguiremo dal Parlamento Europeo. Hasta la victoria.